ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi sarà dopo tantissimo tempo che non ne facevo un video all praticamente ho fatto degli acquisti da lidl dai cinesi e anche da come si chiama 99 cent una cosa del genere insomma tipo tutto un euro una cosa di queste cosa che però non è vero che costano tutte cose un euro comunque per prima cosa vi faccio vedere no guardate vi faccio vedere tutto insieme perché non riesco a distinguere quali sono quelle di cinesi e quelle eccetera allora per prima cosa vi voglio far vedere questo perché così almeno lo vedete bene vi voglio far vedere questo stuccino è troppo troppo carino con i gufetti mi piaceva tantissimo le cose che vedete possono essere anche messe in un futuro giveaway o magari in un futuro swap che devo fare non lo so non vi so dire io vedo le cose mi piacciono le prendo ok questo è il primo poi vi vi faccio vedere ho preso questo qui vabbè un pacchettino normale niente di che ecco qui poi ho preso dove sono eccoli qua poi ho preso questi brillantini sono rosa e azzurro ne ho presi altri poi li vedrete dopo questi qui poi ho preso questo squishy che è adorabile vedete che bello morbidissimo con la calamita sembra una vera tortina se notate aprire la targhetta è meraviglioso veramente con le ciliegie sopra non lo apro perché vi ho detto il motivo è adorabile questo squishy poi ho preso questi a lidl ecco qui sono bellissimi molto natalizi poi ho preso questi altri brillantini qui comunque questo tipo di rosa salmonato diciamo qui qui poi sempre a lidl ho preso questi che sono le deco tape spero che li vedete bene ecco qua sono tutti a prima natalizio vedete ok metto qui poi sempre a lidl ho preso questo sempre natalizi sono adorabili che sono un sacco sinceramente non mi ricordo i prezzi assolutamente un euro qualcosa un euro e trenta forse un euro e 29 non mi ricordo poi da 99 cent no aspettate vi faccio vedere ancora le decine che ho preso questo giallo che è adorabile invece un sacco poi e da 99 cent ho preso questi due colori acrilici sono vedete azzurro e verde bottiglia poi ho preso questi personaggini piccolini del presepe e anche questi poi faremo una cosa insieme non so ancora quale dei due usare però mi piacciono entrambi tutto qui poi decine se ho preso questo che è una specie di borsina con il con l'emoji quella che dà il bacino lo metto di nuovo qui dentro ok very good non so come caspita chiudere ok poi lo sistemo poi sempre da 99 cent ho preso questa che è sempre la polvere di ceramica che uso io quella della deco qui costa 50 centesimi in meno nel negozio per come si chiama per delle belle arti costa 3 euro e 50 qui l'ho trovato a 3 euro ed è sempre la stessa poi ho preso questa colla vinilica della prima voglio provarla magari per fare lo slime poi ho preso questi brillantini qui viola scuro sono bellissimi questi neri con l'effetto galaxy che io adoro ce l'ho anche neri però come si dice più più sottili più fini poi ho preso questi tre blu azzurro voglio dire viola scuro e arangione e sono quelli è un po più grandi tipo questo di qua diciamo vedete che sono più spessi questi sono più sottili vedete insomma sono bellissimi tutti e tutti quanti non mi interessa come sono mi piacciono un sacco i colori che ho preso e niente questi sono tutti gli acquisti che ho fatto vi faccio una panoramica vi faccio vedere tutto quello che ho acquistato soprattutto adoro quello che ho preso da lì a lidl perché cercavo cose natalizie tipo degli stampi ma non ho trovato un bel niente e niente questi sono tutti i miei acquisti spero che vi siano piaciuti ma soprattutto che mi sia stato utile questo video e niente noi ci rivediamo al prossimo video ciao ciao cosa fai amore amore macchialina sta mangiando come sempre lui mangia o beve o gioca praticamente non c'è una volta in cui sta tranquillo si è un po pazzotico è così carino guardate che bello quando mangia amore ciao ciao amore mamma e qui mangiamo mangiamo vi mangia e la sorellina cosa fa la sorellina non fa niente è qui a terra sakura non gliene frega niente di questo video amore te ne frega qualcosa di questo video sembra che abbia gli occhi rossi ogni volta amore se lui osserva il cibo dalla sua gabbietta e niente noi vi salutiamo e speriamo che questo video vi sia piaciuto alla prossima ciao